buonasera buonasera juventini buonasera calciofili juventus 3 sassuolo 0 v come vlaovic v come ve l'avevo detto ricordate paio di settimane fa quando vi dissi che vlaovic questo mese avrebbe segnato tanto e questo ne l'avevo detto no il ragazzo sta veramente bene di testa poi adesso ho ascoltato anche l'intervista molto loquace molto presente e quando sei molto loquace per un ragazzo molto sensibile come lui emotivo vuol dire che sta bene vuol dire che sta molto bene vuol dire che ha entusiasmo vuol dire che ha positività vuol dire che gioca con piacere lontano da quel chilometri lontano a quel musone quasi insopportabile che non riusciva a stoppare una palla che cos'è la testa nel gioco del calcio raga cosa può essere la testa nel gioco del calcio può essere tutto può essere molto ma può essere tutto la testa non sbaglia uno stop più uno stop fa le sponde di prima fa gol che altro cacchio andiamo a cercare si prende la squadra sulle spalle è un leader godiamocelo finché durerà questo momento con la speranza che i giorni bui siano definitivamente passati è andato in gol anche federico però voi sapete io dalle io amo mentre analizzo una partita io amo dire cosa va e cosa non va cosa non è andato ragazzi il centrocampista serve purtroppo il centrocampista serve uno che sappia far uscire la palla quando siamo pressati nella nostra area in maniera pulita perché non è ancora bella pulita la nostra uscita dalla pressione avversaria spesso siamo andiamo di fretta spesso perdiamo palla oddio il sassuolo francamente oltre Berardi e l'Oriente è pochissima cosa io guardando la partita di stasera davvero mi faccio è vero che mancavano alcuni giocatori però guardando la partita di stasera ragazzi io non riesco a comprendere come abbiamo preso quattro gol questi all'andata e come questi sono andati a vincere a milano la domenica dopo perché questi sei dei 19 punti che hanno praticamente un terzo dei punti li hanno fatti con juve inter questi qua un terzo dei punti che hanno li hanno fatti con juve inter questi qua cosa cazzo è il calcio davvero ribadisco soprattutto nel primo tempo perché nel secondo tempo è stata più una partita di gestione devo dire soprattutto nel primo tempo abbiamo trovato due grandi con con vlaovic ma fra il primo e il secondo gol ci sono stati delle problematiche a centrocampo oggi devo dire Maluccio Miretti anche Kostic Maluccio nel primo tempo ma nel secondo tempo ha giocato molto meglio Rabbio ha fatto il suo e nulla più Locatelli il solito lavoro oscuro le dà sufficienza ecco a noi manca un giocatore di raccordo che faccia da raccordo fa centrocampo e attacco manca questo giocatore manca un esterno affidabile a sinistra anche se abbiamo cambiato che può fare tutti i ruoli però un infortunio muscolare uno stop una squalifica che si fa è vero molti giocatori stanno crescendo molti giocatori stanno crescendo e la squadra gioca meglio gioca meglio rispetto a un mesetto fa gioca meglio è un po' più propositiva perché? perché adesso sono più convinti dei loro mezzi questi ragazzi però alcuni difetti permangono oddio certe sbandate non sono scomparse tipo l'occasione di Berardi quella del paratone di Scesni cioè è venuta fuori da un calcio d'angolo a nostro favore tirato un po' così con il cappello che fa caldo e queste sono cose che dobbiamo stare attenti perché Berardi e Lorientè ci vanno vicino Lautaro e Turam ti fanno il culo non te li puoi permettere questi errori contro l'Inter l'Inter non ti perdona in quella di partenze ok ammesso che gli altri siano più magnanimi detto di Vlaovic detto della sua prestazione superlativa sì lui tutti i miglioramenti di questi tempi sono farina nel suo sacco sì noi possiamo avere una posizione che vogliamo sull'allenatore ma alla fine è il giocatore che va in campo è la testa del giocatore che decide cosa fare cosa non fare e in questo momento il ragazzo sta bene però ve la posso dire una cosa io comincio a pensare che questa improvvisa vena realizzativa della Juventus eh se prima potevo pensare vabbè nell'inservio della Salernitana in Coppa Italia vabbè il Frosinone dopo il primo tempo la partita è praticamente finita oggi no ve la posso dire una cosa ma da quando gioca il ragazzino la Juve segna di più non lo so è una mia impressione o da quando gioca il ragazzino la Juve segna di più e il ragazzino ha fatto una buona partita anche oggi senza non l'ha segnato ma ha fatto una buona partita anche oggi cioè ha quello scatto quel dribbling fulminante che ti lascia sul posto tanta roba davvero davvero tanta roba solito Bremer monumentale solito Bremer monumentale bene anche Rugani e anche Danilo in crescita nel secondo tempo perché nel primo tempo abbiamo sofferto sto cazzo di Pedersen oltre naturalmente a a qualche giocata di Berardi nel secondo tempo è cresciuto è molto cresciuto Danilo poi diciamo quando Dionisi ha sostituito Berardi che non era in perfette condizioni si vedeva l'Oriente e la partita è praticamente finita in una ora del Sassuolo che sto parlando il Sassuolo non lo avevo messo molto bene devo essere sincero io ve l'ho detto questi praticamente un terzo dei punti li hanno fatti con Juve e Inter questi qua cioè se Juve e Inter non avessero steccato a quest'ora erano in piena zona retrocessione questi qua e non è detto che si tirino fuori oddio c'è la situazione del Verona che boh però prendete oggi che l'Empoli ha mandato via Andreazzoli ha messo Nicola Nicola un'impresa del genere la fece a Crotone già non è nuovo Nicola certe robe quindi perché se il Verona è messo come è messo per fattori extracampo la Salernitana fatica ancora a rinforzare secondo me Inzaghi non è allenatore adatto per salvarti poi non lo so io avrei puntato su un Iachini piuttosto ho allenato un esperto che ti insegna a soffrire e tutto il resto ma Sassuolo lo vedo messo non benissimo se all'andata una Juve è completamente fuori di testa è un Berardi giornata di grazia sono stati all'origine di quella partita ora boh non lo so davvero non lo so come pensiamo a noi percentuali Scudetto al momento restano 80% Inter ero sceso a 78 dopo il 5 a 1 di Monza sono tornato all'80 per me restano l'80% perché signori due sono le cose o a centrocampo si inizia a crescere o soffriremo in tutte le partite perché oggi è parso evidente che la Juve ha un difetto cioè a tratti abbiamo messo sotto il Sassuolo ma a tratti più che a tratti però non c'è continuità non c'è continuità perché non hai un centrocampo che non lo può permettere e soprattutto e soprattutto gli esterni che è torto cambiaso non vedo molta affidabilità negli esterni detto questo qualcuno mi dirà parli come se fossimo sessi settimi in classifica no io vi dico una roba la classifica attuale della Juventus è molto figlia della coesione di gruppo ragazzi guardate che fare gruppo delle volte è meglio che avere un top player in squadra un esempio la Juve di Zoff la Juve di Zoff allenatore quella che vinse le famose due coppe ora lasciamo stare le famose due coppe anche in campionato con la Juve arriva terza in classifica dietro il Napoli di Maradona e il Milan di Van Basten terza a pari punti con l'Inter di Trapattoni che arriva a cinque nazionali più i tre tedeschi campioni del mondo la Juve quell'anno arriva a pari punti in classifica eppure a parte l'anno d'oro di Schillaci c'erano i due russi Zavaro Valenico Rui Barros Casiraghi Bonetti Triccella l'esperto portiere Tacconi sì ribadisco era una formazione che sulla carta era dietro anche la Samp di Viagli e Mancini ci arrivarono dietro di un punto la verità era anche dietro potenzialmente era a quinto posto quinto sesto posto quella rosa invece arriva a terza pari punti con l'Inter e vince due coppe perché si era creato un'amalgama uno spirito di unione intorno a questo allenatore Dino Zoff e secondo me purtroppo lo devo dire molto accementale quel gruppo tanto fece la tragedia di Gaetano Scirea quell'anno lì fece tanto la tragedia di Gaetano Scirea perché compattò un gruppo che lo portò figa a trionfare in Coppa UEFA e in Coppa Italia con il grande Milan di Sacchi vincendo in casa loro gol di Galia ecco io vedo più o meno la stessa unione forse questa Juve è un tantino più forte di quella di quella lì sì c'era Schillaci in stato di grazia e c'era Casiraghi che aveva 21 anni che decise più di qualche partita adesso abbiamo questo ragazzino terribile io non dimentico Moise Ken attenzione Moise Ken può essere molto importante attenzione che Moise Ken è uno che poi i gol devi fare tutti insieme nella speranza di rivedere presso il miglior chiesa godiamoci Ildiz ecco io le parole che ho detto non le dimentico e godiamoci Vlaovic che forse sta uscendo dalla modalità Borriello che non ce l'ha fatta forse sta uscendo e forse sta sbocciando e forse sta sbocciando ce n'è voluta non è stata tutta colpa sua questo è chiaro ed evidente lui ci ha messo del suo con le sue sbandate caratteriali c'è chi rilega questa rinascita alla sua nuova fidanzata ma non lo so io credo con queste robe anche se spesso possono influire specialmente per un carattere sensibile come quello di Dusan Dusan è un ragazzo pulito si vede un bravo ragazzo uno molto sensibile era facile esaltarsi ma è altrettanto facile a deprimersi adesso lo vedo più maturo lo vedo più responsabile soprattutto è più leader e questo fa tanto in un attaccante di quell'età lui ha quasi 24 anni non mi rimangio quello che ho detto in passato quando sin da quando Vlaovic è stato acquistato dalla Juventus ribadisco non abbiamo preso il nuovo Van Basten anche perché di Van Basten non ne nasceranno più però quell'irruenza e quell'entusiasmo quella voglia di spaccare il mondo che aveva prima che aveva quando arrivò infatti fece più di qualche gol il suo primo anno con noi la sua prima mezza stagione con noi adesso è un'euforia un po' più controllata ogni tanto Allegri deve riprenderlo però molto meno rispetto a prima e questo è questo molto importante per questo ragazzo per il quale dobbiamo veramente augurarci tutti che per Dujan i tempi pui siano passati perché questo è gobbo dentro questo è più io l'ho detto e lo ripeto questo è più gobbo di chiesa molto più gobbo di chiesa io ve l'ho detto e lui per larghi tratti sembra più italiano che serbo e in genere i serbi in Italia si trovano molto bene e il campionato dove si trovano meglio i serbi in genere non sono i croati che sono un po' adattabili dappertutto ok i serbi sono un po' più morali altrimenti non si sarebbero massacrati null'altro per 3-4 anni godiamoci questa Juventus come giustamente dicono sia Allegri Gevraovic partita dopo partita poi accada quello che deve accadere certo la mai il sogno del cassetto ce l'abbiamo tutti sarà difficile sarà perché loro sono forti sarà difficile però però viviamo la partita dopo partita in fondo che cazzo abbiamo da perdere io spiego solo una cosa che se proprio dobbiamo devono vincere loro che allunghino a marzo aprile perché perdere sul filo di lana mi roderebbe parecchio il culo perché darebbe di sogno spezzato iscriviti al canale iscriviti al canale a marzo